i più narcisisti dello zodiaco, segno per segno. Allora, cerchiamo di capire quali sono i segni più narcisisti dello zodiaco. Ovviamente sono indicazioni di tendenza, indicazioni di massima, però il narcisismo si sviluppa in modalità un po' diverse in funzione del seno zodiacale. Quindi, ovviamente, se tu hai anche... se hai un seno zodiacale che è molto difficile che sia narcisista, beh, insomma, tu valuta sempre i comportamenti, però diciamo che ci sono dei segni che hanno una predisposizione maggiore a essere narcisisti e essere narcisisti anche in forma diversa. Quindi vediamo segno per segno, anche talvolta dalle combinazioni dei segni astrali, comunque di seno zodiacale. Allora, vediamo l'ariete. L'ariete è un segno estremamente impulsivo, l'ariete è un segno che, tra l'altro, diciamo, ha anche proprio una scarsa capacità di ragionamento, ha la parte emotiva che prevale totalmente sulla parte logica. Quindi l'ariete è un segno veramente impulsivo, è un segno veramente, diciamo, che è scarsamente narcisista, però l'ariete tende a essere un segno che vuole comunque dominare, che vuole controllare. Quindi, ma non controllare da un punto di vista razionale, è un segno che, ad esempio, nel narcisismo, se il narcisismo fa rapidamente ghosting, quindi se ha a che fare col seno dell'ariete, aspettati che sparisca da un momento all'altro. E purtroppo, cara malgasciona o cara carampana, se tu hai a che fare con un seno dell'ariete, aspettati che questo sparisca, che ti faccia ghosting, perché è un segno, questo è un segno molto, molto impulsivo. Quindi, se magari li gira per traverso, sparisce completamente senza dirti niente. Quindi, non devi pensare assolutamente che un segno come quello dell'ariete possa essere stabile, che una relazione con il seno dell'ariete possa essere stabile. Assolutamente no, tende a sparire. Poi abbiamo il segno del toro. Il segno del toro è un segno di terra. Normalmente i segni di terra non è che sono proprio narcisisti, ma per certi versi possono anche diventarlo. Il segno del toro è un segno che ha delle caratteristiche legate alla possessività e alla gelosia, quindi tende nel narcisismo a sviluppare possessività e gelosia. Quindi, anche qua, diciamo, tutto dipende dalla gradazione. Ovviamente il narcisista espande al suo massimo potenziale queste caratteristiche. Quindi, un segno del toro narcisista troverà, diciamo, diventerà proprio una persona che ti sarà col fiato sul collo, ti romperai i coglioni, ti spacherai i maroni in tutti i modi. Quindi, fai attenzione perché questo segno potrebbe veramente destrutturarti da un certo punto di vista, potrebbe veramente rovinarti anche la vita. Insomma, è questo da tenere presente, da prendere in considerazione. Poi, devi tenere presente che abbiamo il segno dei gemelli. Il segno dei gemelli è un segno narcisista perché è subdolo, è ruffiano. Il segno dei gemelli è un segno ruffiano, è un segno inaffidabile. Quindi, tende all'inganno, è un segno ingannatore. Tende anche ad avere, a cambiare un pochettino il, diciamo, il suo modo di pensare. Oggi la penso in un modo, domani la penso in un altro. Però, un volta gabbana, è un segno doppio, è un segno abbastanza infido da questo punto di vista. Quindi, potrebbe starci il narcisismo si adegua molto bene al segno dei gemelli. È un segno utilizzatore, insomma, che tende a sfruttare gli altri. Il segno dei gemelli è cinico, non dà niente per niente, tende a ingannare, è un po' bugiardo. E quindi ha queste caratteristiche. Non è detto che tutti, ovviamente, siano narcisisti, però, ovviamente, va tenuto presente questo. Quindi, cerca, in qualche modo, di evitare, se hai a che fare con il segno dei gemelli, che non si comportano in modo giusto, di dargli corda, no? Mola, toglitelo dai coglioni, vai avanti e prosegui da un'altra parte, perché non è che devi stare lì a romperti i marroni. E poi abbiamo il segno del leone. Il segno del leone, per antonomasia, probabilmente, è il segno più narcisista dello zodiaco, perché il leone è già molto egocentrico, vuole essere centrato su se stesso. Il segno del leone ha un po' questa caratteristica, che vuole essere sempre centrato su se stesso, vuole essere sempre al centro dell'attenzione, e quindi ha questa caratteristica che ha proprio, no? La voglia, la capacità di essere, da un certo punto di vista, è un segno narcisista, perché è molto egoista, molto egocentrico. Quindi, nello zodiaco, diciamo, anche con i gemelli, comunque leone gemelli, fino adesso, sono i segni dove è prevalente questa caratteristica. È un... È un modo di fare. È il cancro, che ho saltato il cancro, perché sono passato dai gemelli al leone, ho saltato il cancro, e quindi parliamo del cancro. Scusate, la sequenza non è corretta, ma va bene uguale. Il cancro, invece, è un segno che, diciamo, è poco narcisista, vuole però avere il controllo della situazione da un punto di vista familiare, ma il cancro è un segno che, di fatto, è, diciamo, ha poche possibilità di essere di essere narcisista, diciamo. Poi ce ne sono anche sicuramente. Ha un po' la mania del controllo dal punto di vista familiare. Ad esempio, se tu hai dei figli con un cancro, questo vorrà avere un po' il controllo della situazione, vuole essere dominante soprattutto la donna del cancro all'interno della famiglia. Questa è un po' questa caratteristica. quindi, abbiamo visto anche il cancro, vediamo il segno, il segno della Vergine. Ecco, il segno della Vergine, il segno più razionale dello zodiaco, è il segno, il segno, diciamo, iperperfezionista, quindi sviluppa, può sviluppare quello che viene definito perfezionismo narcisistico, cioè cerca negli altri la perfezione. e lui o lei pensa di essere perfetta a quella della Vergine e cerca di voler la perfezione, la perfezione sulle altre persone. Cerca la perfezione. Se sbagliano, le tartassa. Quindi, attenzione al segno della Vergine perché è un segno rompicoglioni. Narcisista o non narcisista è comunque molto rompicoglioni. iperlogico, pignolo, puntiglioso, insomma, stare al pasto con la Vergine non è facile, ti scassa i maroni dal mattino alla sera. Poi abbiamo la bilancia. La bilancia tende ad avere, possiamo definirlo, una vanità. Il segno più vanitoso del... Vanitoso non significa egocentro, così dire che la vanità è soprattutto per quanto riguarda l'aspetto fisico. Quindi la bilancia va alla ricerca, soprattutto dell'aspetto fisico, un aspetto fisico che possa essere gratificante. Questo è quello che fa la bilancia. Insomma, va alla ricerca proprio di un aspetto fisico. Quindi, se vogliamo dire, è sicuramente, potrebbe essere un segno, come possiamo dire, narcisista, ma più che altro tende ad essere vanitoso. Non vedrai proprio una, diciamo, un narcisismo come il leone egocentrico, eccetera. Lo scorpione è un altro segno che può essere molto manipolativo di suo. Lo scorpione è un segno manipolativo, è un segno che con il narcisismo ci sta benissimo perché vuol manipolare, vuole controllare, vuole gestire, vuole fare, quindi ha, insomma, una predisposizione alla manipolazione, al ricatto, per cui, fate attenzione, un po' assieme dello scorpione perché punge molto, quindi bisogna fare un po' di attenzione. E poi abbiamo il sagittario. Il sagittario più che narcisista tende ad essere libertino. Quindi, col sagittario porterai le corna, sarai cornuta, sicuramente cornuta, ti riempirà di corna dal mattino alla sera, ma non è detto che sia narcisista. Anzi, è difficile perché il libertino di suo non è narcisista. A libertino gli piace, diciamo, come dire, andare a ficcare il biscottino da tante parti, ma non è detto che sia narcisista. Tende ad essere semplicemente libertino. E poi abbiamo il capricorno. Il capricorno è un altro segno razionale, un altro segno di terra, quindi se in terra difficilmente sono narcisisti, il capricorno è molto ambizioso, quindi questa sua ambizione spinta agli eccessi potrebbe diventare narcisismo. L'ambizione di che cosa? L'ambizione di voler essere migliore degli altri. Il capricorno tende ad essere anche competitivo, ringrazio Iodita, tende ad essere competitivo, tende ad essere, diciamo, un segno che vive molto la competizione. e quindi da questo punto di vista il segno del leone, il segno del capricorno potrebbe avere la possibilità di essere narcisista, ma normalmente non ha tante caratteristiche. E poi abbiamo il segno dell'acquario. Il segno dell'acquario è anche un altro segno che vuole la libertà. Più che narcisista tendenzialmente gli acquario sono cinici, sono persone che non hanno, non sviluppano tanti sentimenti, sono un po' opportunisti, quindi tendono a vivere l'opportunismo, tendono a vivere che poi ovviamente potrebbe anche sfociare a lungo termine nel narcisismo, ma non in linea di principio. E poi abbiamo il segno dei pesci. Il segno dei pesci probabilmente è il segno meno narcisista dello zodiaco, però se sviluppo un narcisismo, sviluppo un narcisismo covert, nascosto, in quanto il segno dei pesci è un segno che è tendenzialmente accudente, un segno che tendenzialmente si aggancia proprio su persone magari bisognose, quindi più che il narcisista potrebbe essere codipendente. Queste sono un po' le caratteristiche, ovviamente poi ogni segno svilupperà al meglio le sue. Bene, cari Amalgascione, per questo video è tutto, seguitemi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su tutti i canali YouTube, quindi andatevi a iscrivervi su tutti i miei canali YouTube.